Hai mai visto la donna più bella del mondo? Sì, è una donna birmana con un bambino è stata una folgorazione secondo me era veramente la donna più bella che l'ha visto ed era bellissima in quell'immagine con il suo bimbo sullo spazio L'hai conosciuta? Sì, gli ho scattato due foto non parlava nessuna lingua comune però è sicuramente l'immagine che fosse la donna più bella Hai mai provato la fame più tremenda? Sì, il secondo giorno del corso di meditazione perché mangi alle 11 del mattino e non mangi fino al giorno dopo alle 5 Il freddo è quello che ti entra nelle osse? Un po' a Piacenza Con le nebbia Il freddo è secco, sì, c'è il freddo è peso Patagonia alla notte a Torre del Pai, l'intenda meno 8 Porca puttana che freddo Anche nel deserto del Sahara, in Mauritania, molti freddo Nel deserto del Sahara perché c'è un'escursione termica molto fuori Eh sì, poi comunque non ero più pagiato bene ma in Patagonia invece ho dovuto anche aprire la coperta di emergenza E il caldo che ti spianca? Eh, in India In India c'era molto caldo, soprattutto a Calcutta Cioè, sono stati posti in cui chiaramente quando andavi in guest house o nell'ostello Cioè avevi quantomeno un ventilatore, cazzo che devo Che mestiere hai fatto quindi? Durante il viaggio? Sì, a parte mai detto Ho fatto videomaker, ho fatto il cuoco, ho fatto il marinaio, ho fatto il recepcionista Il recepcionista dove? Oh, l'Uno Stella Cusco a Buenos Aires e a São Paulo, in Brazil Ho fatto l'agricoltore in Argentina Ho fatto... Come più stare? Ho tagliato cimi di marijuana in Tasmania Oh, davvero? Cambio d'alloggio Ho fatto il barista No, direi che ci siamo, direi che sono questi Dove hai festeggiato i tuoi compleanni? Il primo compleanno sul monte Everest, cioè o meglio all'Everest Base Camp Il secondo compleanno in un bosco dell'Alabama In un bosco dell'Alabama? Sì, e il terzo compleanno alle cascate di Kuaçu E immagino che la natura ti desse il regalo più grande Beh, in Alabama avevo ancora una bottiglia di vino italiano che mi aveva parlato in una maniera bosca Beh dai, non male Alla fine, d'orizzonte Di che colore è? È un alba o è un tramonto? No, non è l'uno dell'altro, non c'è colore È una linea, è la conquista, è la felicità È la metafora per me stessa della vita È il fatto di comunque guadagnarsi ogni giorno, di guadagnarsi ogni ora Di non rimanere fermi, sono sempre in costante cambiamento Il colore non ha colore, ha tutti i colori È un arcobaleno L'arcobaleno ha un capo da coda In più l'arcobaleno nasce solo, dopo una tempesta scappa Quindi è molto riduttivo definire un arcobaleno nonostante abbia tutti i colori L'arcobaleno è uno di quelle manifestazioni naturali che si sconvolgono Però è una cosa estemporanea, l'orizzonte è volendo dappertutto Il problema è che qua, guarda, qui c'è, perché c'è il cemento È quello che mi manca nella natura, vedere l'orizzonte Però no, a livello di colori, li racchiude tutti L'orizzonte è qualcosa che va oltre, che trascende Grazie No, guarda, è la grande, perché sono state quantomeno domande diverse dal solito E accattivante sicuramente, quindi è la grande proprio Almeno non ho dovuto rimettere il disco che metto sempre Cose che ti renderanno conti, certe risposte ti dati Cosa? Perché nel libro comunque ci sono cose che nel blog non ho mai parlato Grazie a tutti